Pronto il pick and roll con Totè che cerca il pallone sotto invece per Alan Popolos e non riceve, Totè poi con il tap-in di 2 a 2. Totè per il consegnato da Doudarkman, non guarda nemmeno il ferro, va da Cittam che prende, spara, la bomba, il controsorpasso VL. Vitturo 13, Hackett contro Alan Popolos sotto lo schiacciato per Wims, 15 secondi per l'attacco Virtus. Giro e tiro di Kyle Wims, come sempre esecuzione. Ogelea basta, anticambi nella Virtus anche per la WL Lundberg, due secondi, un secondo fino in fondo, angolo per il tiro di Hackett, dalla lunga distanza. Ah, scheriti, lì è successo di tutto. Arriva Bellinelli in corsa, subisce il contatto, falloso! Marco Bellinelli! Non si chiama fortuna perché quando lo fai per 20 anni, questo e metti dentro quel tiro e prendi il fallo e fai incazzare mezzo mondo mentre l'altro applaude, sei Marco Bellinelli. Sì, non è una novità, no, decisamente. A 6.20 dall'intervallo lungo al Durrachman, c'è il blocco di Tutè per fermare Abbas, la penetrazione, il 5 di Pesaro! Con il canestro! E' questo l'ultimo canestro, Durrachman. Dalla propria panchina, ha trattenuto centro area, Schenghelia, reverse, Camara con la schiacciata! Il 39-31. Camara riceve centro area, Viscotti! Lo cancella totalmente, contropiede Pesaro, ora da un po' plus con mano sinistra! Da manuale da una parte e dall'altra la Viscotti. La Viscotti ha la possibilità di fare un altro mini-break. Con Mannion, evita la stoppata! Giocoliere di Comennion! Moretti lo attacca, anche lui prova a rispondere! Un'altra bagata dall'altra parte di Moretti! Vida tra i due, 55-50, poi a tata per Wimps! Che decolla in fiera! E schiaccia il più 7! 12 secondi di differenza tra i due econometri, Pelinelli contro Delfino, liberato Hackett per la tripla! Hackett contro Durrachman, Paco a bloccare, Hackett osserva il ferro, poi serve! Così! Ismael Paco che inchioda! L'ultima azione, vince la Segafredo 88-76 sulla Carpegna Prosciutto, Pesaro sale a quota 38 punti in classifica.